Yo! Qui è il manager del Trebi Studio che vi parla. Se siete arrivati a questo punto vuol dire che avete ascoltato quasi tutto il mixtape. Sperando che vi sia piaciuto vi invito caldamente a scaricare e a pompare questa merda con i controcazzi per dare al mio compagno Drage la motivazione giusta per droppare altri pezzi con i controcoglioni. Mi raccomando vi ricordo di visitare il sito del Trebi Studio per ascoltare anche gli altri pezzi dei componenti della crew che vi garantisco spaccano il culo. Se questa merda invece non vi è piaciuta ricordatevi che siete comunque dei suckers del cazzo e che a noi non interessa. Dal manager è tutto, linea allo studio.